C'era una volta un signore che si chiamava il signor Vanceslao e lui abitava in una casa volante. Il signor Vanceslao ogni giorno verso il tramonto ritornava al posto dove abitava. Ciao signor Vanceslao, potremmo venire con te? Signor Vanceslao, quando possiamo venire? Tutti gli abitanti provarono a far volare le loro case. Perché non vola? Oh Isa! Perché non vola la casa del signor Vanceslao? Ma tutto fu inutile e nessuno ci riuscì. Perché non vola la casa del signor Vanceslao? Perché non vola la casa del signor Vanceslao? È un po' di più. Perché non vola la casa del signor Vanceslao?